Ciao, mi chiamo Maria, sono Vicentina Magniagatti e il mio animale preferito è Procione, lui è mio amico, si chiama Gedeone Procione, detto anche Gelli. Sono la più piccola della mia famiglia, sono la settima figlia e fino a nonno mese mi hanno visto gli attributi maschili e avrei dovuto chiamarmi Pietro. E mi è andata bene che non mi hanno chiamato Pietro alla fine. Quindi sin dall'inizio il mio rapporto con i medici non è mai stato dei più simpatici. Eppure adesso faccio medicina. In realtà non so bene perché, come ci sono finita qua, perché io sin da piccola sognavo di fare l'attrice, però la mia più grande passione insieme all'arte era la scienza e quindi alla fine tra Super Quark e Art Attack ho deciso di dedicarmi alla medicina. Il mio colore preferito è rosso e mi dicono che il verde ospedale mi dona particolarmente, quindi penso che alla fine farò chirurgia, oltre al fatto che mi piace ricucire insieme i pezzi. E ricordate che se una mela al giorno taglia il medico di torno, un appendicite no, quindi chiedete di me. Ciao a tutti!